e vince la campesta femminile delle prime classi 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 Filippo Mezzetti vince la campesta femminile delle prime maschili Paoletti secondo la campesta femminile delle prime classi Dio vieni Dio fatti Dio bravi 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 Dai, vanno piano, su Prima Vanno bene, vanno bene va bene, va bene, va bene bravissima, metto forte oggi non ti metti seduti e stira e stira va bene, va bene brava, brava in più, bene e stiliare tu io poi ci avevo da stessi ma è l'anno primo visto bravo uscira un po' di aiuto come va, come va uscira un po' di aiuto dai, dai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai forza vai, vai, vai vai, vai, vai 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 vai, vai vai, vai 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 ... bravissima 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 respirare per bene bravo compilenti bravissimo bravissimo dai dai un po' bravo 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 Grazie a tutti